Sono state depositate entro le ore 12 di oggi le liste per le elezioni amministrative 2022. In provincia di Salerno sono 34 i comuni chiamati al rinnovo del Consiglio Comunale. Le elezioni amministrative si svolgeranno il prossimo 12 giugno. Un eventuale ballottaggio si terrà il 26 giugno. Tra i comuni della provincia di Salerno chiamati al voto con popolazione superiore ai 15.000 abitanti troviamo Agropoli, Mercato Sanseverino e Nocera Inferiore. Per quanto riguarda il Vallo di Diano i comuni chiamati al rinnovo del Consiglio Comunale sono Buonabitacolo, Santassegno e Sancia. A Buonabitacolo unica lista presentata per le amministrative si tratta di quella del sindaco uscente Giancarlo Guercio patto per Buonabitacolo, la Ginestra dove Guercio è nuovamente candidato alla carica di primo cittadino. Anche a Santarsenio l'unica lista presentata è quella del sindaco uscente Donato Pica, impegno comune per Santarsenio. In entrambi i casi per eleggere il nuovo Consiglio Comunale sarà necessario raggiungere il quorum del 40% delle persone aventi diritto al voto. Non sono compresi in questa percentuale i cittadini iscritti all'aere. Infine a Sanza la sfida è tra il sindaco uscente Vittorio Esposito alla guida della lista Cambiamenti per Sanza e tra Antonio Citera alla guida della lista Siamo Sanza costruiamo il nostro futuro insieme.